vi potreste trovare sull'uscita di cassino prendetela andate a visitare l'abbazia di monte cassino e forse vale la pena proprio recarsi a fare una visita alla cattedrale di anani tra i sapori della zona e alla riscoperta di gusti antichi in modo contemporaneo di solito però si esce qui per visitare il parco dei mostri di Ugarzo